Ciao a tutti, oggi stiamo andando Siamo arrivati alla frazione di Santa Maria, bisogna parcheggiare davanti al bar B&G per poi fare un tratto a piedi. Grazie a tutti. Il sentiero per queste piscine naturali di acqua sulfurea è lungo 400 metri, mentre il tempo di percorrenza è di circa 10 minuti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.